Parco Ragazzi del 99, Prato Santa Caterina o per i bassanesi semplicemente il Prato. E' questa l'area su cui intende concentrare l'attenzione l'amministrazione comunale nel 2019. Il lavoro su cui siamo focalizzati di più è sicuramente la riqualificazione dell'area Prato Santa Caterina. Su questo stiamo facendo un lavoro importante, adesso a livello di progettazione, e poi con il discorso della Scala Mobile o Tapirulan, quello che sarà per poter raggiungere il centro, agevolare anche tutta la residenza del quartiere Marnian verso il centro storico, abbiamo messo dei soldi veri su questi progetti, quindi a testa bassa da inizio anno. Già dichiarata la volontà di trasformare in realtà lo storico progetto di un collegamento facilitato con il centro storico mediante Scala Mobile o Tapirulan, il Comune però vuole fare ora molto di più, aumentare l'attrattività del parco rendendolo un luogo perfetto per ospitare manifestazioni e spettacoli. Tra le ipotesi allo studio del Comune infatti c'è la realizzazione di un anfiteatro proprio all'interno dell'area verde. Un'arena che sorgerebbe dunque a poche decine di metri dallo storico teatro cittadino, l'Astra, e proprio il teatro è forse il rimpianto più grande di questa amministrazione. Bassano per le dimensioni di città che ha e soprattutto anche per la qualità della sua proposta culturale, mi riferisco a Opere State in particolare, avrebbe bisogno di una struttura teatrale. Noi ci abbiamo provato all'inizio del nostro mandato, le cose sappiamo come sono andate, c'è sempre questa possibilità di sfruttare lo spazio dell'Astra, che però ricordo è di proprietà di alcuni privati, quindi andrebbe con loro, bisognerebbe con loro accelerare un po' quello che è aprire quantomeno un tavolo di discussione a inizio anno per capire se c'è questa volontà oppure no di andare avanti. Questo potrebbe essere un auspicio che io faccio, insomma, però dipende anche da chi si siederà dall'altra parte del tavolo.